Francesco Stocchero qualche giorno fa avevamo raccontato di questo cucco, di questo fischietto che aveva insegnato a fare Pablo Picasso, non lo trovava più, finalmente è saltato fuori, ma dove era finito? Era finito dentro il sacchetto del mordente e io stavo buttando via tutto quanto proprio l'altro giorno e sentivo che questo era il più pesante. Stavo dentro con la mano e ho sentito qualcosa, tirato fuori, eccolo qua. Eccolo il fischietto in terracotta realizzato da Pablo Picasso nel 1951 quando il grande artista spagnolo prese lezione dal maestro cucaro novese Francesco Stocchero durante la fiera di Vicenza. Stocchero era convinto di averlo perso ma l'altro giorno la sorpresa, una grande soddisfazione. Sì, grandissima. Poi vedi, questo non è un fischietto fatto da me, si vede anche dalla fattezza, il buco per suonare. Posso suonarlo? Certo. E' bellissimo va. Anche perché la particolarità è che è un pezzo unico. E' un pezzo unico, unico al mondo. Da cos'è che si riconosce che è di Pablo Picasso? Dalla firma sotto. Quando l'ha firmato, le S, le E2S, ci ha fatto la codina sulle S. Era proprio tipico di Picasso. Nei prossimi giorni il pezzo verrà valutato da un esperto d'arte per verificarne l'autenticità. Intanto il fischietto di Picasso è custodito in una cassetta di sicurezza perché di questi tempi, dichiara Stocchero, è meglio non fidarsi di nessuno. E' forte l'emozione del nostro maestro Cuccaro. Scusate, mamma mia, mamma mia, mamma mia.